Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa specialissima puntata in cui vi mostreremo in anteprima la preparazione dei costumi per il carnevale 2015 che si terrà sabato 14 dalle ore 14.30. Adesso per saperne di più, per sapere come sta andando, diamo la linea al nostro impianto Lori che di sicuro sarà pronto per darci delle buone notizie. Bene Max, sono qui in diretta dalla fabbrica dei costumi per il carnevale e adesso proviamo a entrare per vedere cosa c'è, come va e cosa succede. Dai, entriamo. Silenzio che è sempre pericoloso. Bene, come vedete stanno lavorando tutti indaffarati, ma vediamo, ritroviamo qualcuno. Dai Sandro, dici un po', come va? Marco, va bene, cominciamo già a sapere come giostrare la cosa e stiamo preparando un piatto su una tuta che non so cosa serve. Se servirà, servirà, servirà però. Buono, buono. Va bene, va bene, va bene. Bene. E invece Elisa, cosa vuoi dire? Ti dico qual è il tema del carnevale. Qual è il tema? Il tema del carnevale è taglia, trita, pelle e cuoci ed è un carnevale fatto sul mangiare perché nutrirsi è importante. Infatti vedete? Guardate che sono già pronti i tavoli e aspettiamo tutti sabato per? Per la grande festa di carnevale ovviamente. Vi aspettiamo quindi sabato 14 dalle ore 14.30 qui in oratorio per festeggiare tutti insieme. Ciao!